Un saluto dalla redazione del Tg della mobilità. Domani i trasporti pubblici a rischio a Roma e nel Lazio a causa dello sciopero nazionale di 24 ore indetto dal sindacato Faisa Confail. L'agitazione interesserà i dipendenti di Atac, Roma TPL e Cotral, per cui nel rispetto delle fasce di garanzia previste dalla legge, dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 a fine servizio saranno possibili stop o cancellazioni di corse su bus tram metropolitane e ferrovie, termini Centocelle, Metro Mare e Roma Civita Castellana Viterbo. I primi possibili disagi già questa notte sulla rete dei bus notturni, quelli contrassegnati dalla lettera N.